Ciao a tutti, finalmente dopo davvero tanto tempo mi è arrivata la box premium di Charizard, quindi la collezione ultra premium di Charizard. L'avevo ordinata al GameStop, doveva arrivare il giorno di uscita della collezione, che mi sembra fosse il 28 ottobre, ma ci sono stati dei ritardi e mi è arrivata soltanto adesso. Il GameStop mi ha dato un buono da 5,98€, comunque non era colpa loro, ma era colpa della produzione di queste box, che ha ritardato un po'. L'importante è che sia arrivata, l'ho acquistata al prezzo di listino, quindi non sovrappagata, e niente, già mi accontento di questo. Ero indeciso se aprirla oppure no, alla fine ho deciso di aprirla, quindi non resisto. E contiene davvero tante cose al suo interno, provo a mostrarvele qui. Quindi ci sono 3 carte promozionali di Charizard, un tabellone gioco di Charizard, una moneta di Charizard Gigamax, 6 dadi, 2 segnalini danno, 16 bustine di espansione, e vabbè, una carta codice e una guida, quindi ci sono davvero un sacco di materiali. Costicchiava un bel po', quindi spero che ne valga la pena e sicuramente le 3 carte varranno. Spero di trovarle in buono stato, non è una cosa scontata, ma speriamo che non siano danneggiate. E comunque è anche una confezione da esposizione, quindi all'interno si possono conservare varie carte. Allora, è la prima collezione ultra premium che compro, quindi non ne ho mai comprata una, è la prima, e speriamo di essere fortunati. Non aprirò tutti i pacchetti, quindi molti ho intenzione di mantenerli seeded e conservarli, quindi penso uno per ogni espansione lo conserverò, mentre gli altri li andremo a sbustare insieme. Vi anticipo che questo video penso durerà un po' più degli altri, perché ci sono davvero tante cose da aprire e da vedere. Quindi questo è un po' tutto il materiale all'interno. E vediamo, quindi togliamo la plastica. Voi siete riusciti a comprarla, questa confezione. Che non so come si... Ah, ok. È magnetica. È così, quindi tutta sfumata dal rosso al blu. E si apre dall'altro lato. Benissimo. Aspettate. Ho poco spazio sulla scrivania, quindi... Andiamo ad aprirla. Quindi c'è il tappetino, che voglio vedere assolutamente. Andiamola ad aprire insieme. Ok. Bellissimo. Questo è il tappetino da scrivania. Ogni tanto lo alternerò. Puzza un pochettino, ma... È fatto così. Lo alternerò a quello di Ivi. Vedete, dietro di questo materiale. Antiscivolo. Molto bello. Poi ci sono questi tre cassettini. Uno col Charizard, uno con la Pokeball e uno col Charizard VMAX. E in alto sembrerebbe esserci tipo un... manuale. Eccolo qui. Un po' piegato. Cosa dice di interessante? Vabbè, penso nulla. Lo scorro alla veloce. Le carte lucenti, carte allenatori, viastro, vabbè, niente di nuovo. Ah, destino splendente. Data di pubblicazione, 19 febbraio. Da anche qualche info. Ah, ti dà tutti i pack che possono uscire all'interno. Quindi troviamo spade, scudo, fiamme scure. Dove c'è il Charizard VMAX. Ok. Poi possiamo trovare Futuri Campioni. Dove c'è il Charizard V Shiny e il Charizard VMAX. Poi abbiamo Voltaggio Sforgorante. Eccole qui, dove c'è il Pikachu VMAX. Destino Splendente con il Charizard VMAX Shiny. Poi abbiamo Stili di Lotta. Poi c'è Regno Glaciale. Evoluzioni Eteree, con tutte le evoluzioni di Eevee. Colpo Fusione. Astri Lucenti. Ammazza, tutti sti pacchetti. Lucentezza Siderale. Origine Perduta. E Tempesta Argentata. Non penso ci siano dei pack anche di Tempesta Argentata. Comunque lo scopriremo. Ed abbiamo la box centrale con uno, due, tre il coin che è uscito non so da dove. Comunque qui c'è la moneta con il Charizard VMAX. Eccolo qui. E sul retro Pokémon. La scritta Pokémon. Non so da dove si ha... Ah, si è rotta nel laterale. Bene. E poi c'è il logo Viastro. Quindi il primo cassettino conteneva questo materiale. Poi abbiamo nel secondo cassettino le sleeves con il Charizard VMAX. I dadi tutti con il dorato e sono anche molto pesanti. E i segnalini danno idem. Col dorato sono in metallo e molto pesanti. Molto professional come come cosa. E infine qui spero che ci siano le... Oddio, dove stanno le carte promo? Panico. Ah, ok. Eccole. Dovrebbero essere tutte qui dentro. E... Le manterrò all'interno di questa confezione. Quindi vi mostro al momento soltanto Charizard V. Perché poi le voglio mandare direttamente a gradare. Quindi queste penso che le grado tutte. Vedete? Questa è bellissima sullo sfondo c'è il Venusaur. Bella. Davvero davvero nulla da dire. E ci sono altri pack che ora andremo ad aprire insieme. Quindi faccio spazio e andiamo ad aprire le confezioni. ecco tutti i pack che sono usciti. Abbiamo un solo pack di evoluzioni eteree. Peccato. Un solo pack di fiamme oscure. Un solo pack di regno graciale. Uno di fragore ribelle. Uno di stili di lotta. poi ne abbiamo tre di lucentezza siderale. Due di origini perdute. Tre di astri lucenti. E poi ne abbiamo tre di colpo fusione. I pack che vado a conservare sono quindi solo quelli con tre. Ho deciso alla fine di conservare solo questi. E andiamo a conservare quindi quello di Mew. Per colpo fusione conservo questo. Per astri lucenti conservo quello di Arceus. E infine per lucentezza siderale il mio preferito è questo qui con Reflusion. Eccolo. E penso che gli altri li sbusterò tutti. Quindi iniziamo a sbustarli e poi capiamo. Inizierei da quello che mi interessa meno che è Fragore Ribelle. Ne ho sbustati davvero tanti. Carte importanti qui non ce ne sono. Quindi vediamo di aprire questa pecca che ho distrutto ma proprio di brutto ed abbiamo il codice 1 2 3 4 diciamo energia elettro no energia fuoco abbiamo un mediciam se siete interessati ad unboxing di queste espansioni le trovate sul canale quindi basta andare nella playlist unboxing spacchettamenti pokemon e trovate anche gli spacchettamenti di tutte queste edizioni abbiamo morgram palpito ad bannel b un fantamp drippy farfetch di galar poi abbiamo un honage uno shutout reverse e infine abbiamo un nightless quindi niente di che in nel pack nel primo pack di fragore ribelle le metto a posto se no non trovo nulla ok poi passerei con aprire quello che mi interessa meno in ordine ed è stili di lotta questi pack non si aprono decentemente ed abbiamo codice 1 2 3 4 e diciamo lotta ancora fuoco quindi abbiamo energia fuoco un firo rotolo dello sdegno colpo singolo come è possibile due rotoli dello sdegno colpo singolo non mi era mai successo un cacnea corfish timbur baltoi sizzilipede la reverse un altro timbur e infine un jelly scent stili di lotta andato male passiamo al pack di regno glaciale col moltress qui vediamo non ho trovato futuri campioni ma ce l'ho distrutto ed abbiamo codice 1 2 3 4 e diciamo acqua è indovinato speriamo di trovare qualcosa abbiamo un wirly wirly pede perché non mette a fuoco non capisco un robustelmo poi abbiamo un altro wirly pede non so se è possibile trovo solo doppie un blizzel un lapras bonsuit un ralz la reverse è un venipede e infine abbiamo no scusate la reverse è un ghastly e infine abbiamo uno sloking di galar che è la prima v che abbiamo pullato eccola qui passiamo ad astri lucenti e vediamo se troviamo qualcosa ed abbiamo codice uno due tre quattro e diciamo elettro no energia buio un pacchirisu fiasco polizza luxio cubcio schinx un farfetch exeggut un grimer urshifu pluricolpo vmax bellissima non l'avevo è una full art eccola e infine abbiamo una scremi ho sistemato un po' meglio sulla scrivania così forse si riescono a vedere meglio apriamo l'altro pack di astri lucenti ed abbiamo codice trick diciamo acqua no energia fuoco premonizione di malpi morgram amici di galar un trapinch execute starly uno shroomish un piplap e un ivi bellissima e infine abbiamo un mewtwo bella anche questa di ivi con bill l'avevo già però è una carta molto bella poi passiamo ad origine perduta inizierei con questo pecca e abbiamo il codice uno due tre quattro e diciamo psico no energia lotta uno stankfisk di galar scatola del disastro uno sligu di isui electric markrov uno scupet wampol un orsi un gumi reverse tagliato malissimo guardate quadrato e un rotom cioè guardate questa carta è quadrata la conservo e un rotom v ok poi altro pack di origini perdute speriamo di essere fortunati con questo pack ed abbiamo codice uno due tre quattro diciamo buio no energia fuoco un silk un lady lampent growlight di sui un sidot uno slugma tainamo lit leo un parasect carta allenatore bella e infine un malamar dai abbiamo trovato un'altra carta allenatore quindi questi erano i pack di origine perduta passiamo a lucentezza siderale andiamo con dialga di sui ed abbiamo codice uno due tre quattro e diciamo acqua no energia buio un magneton un curry piccante alle spezie un electrode di isui poniard un growlight di isui un voltorb di isui rafflet ponita la reverse un dianzi e infine un rapidash ho deciso che con questi altri pack ci farà un video a parte se questo video vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e se siete interessati aspettate l'uscita di questo nuovo video è durato già troppo quindi preferisco finire questo qui e registrarne un secondo a presto ciao ciao